Capitolo dodicesimo. Era quello il secondo anno di raccolta scarsa. Nell'antecedente le provisioni rimaste degli anni addietro avevano supplito, fino a un certo segno, al difetto. E la popolazione era giunta, non satolla né affamata, ma certo affatto sprovveduta, alla messe del 1628, nel quale siamo con la nostra storia. Ora, questa messe tanto desiderata riuscì ancora più misera della precedente, in parte per maggior contrarietà delle stagioni, e questo non solo nel milanese, ma in un buon tratto di paese circonvicino, in parte per colpa degli uomini. Il guasto e lo sperperio della guerra, di quella bella guerra di cui abbiamo fatto menzione di sopra, era tale che, nella parte dello Stato più vicino ad essa, molti poderi, più dell'ordinario, rimanevano incolti e abbandonati dai contadini, i quali, invece di procacciar col lavoro, pane per sé e per gli altri, era costretti ad andare ad accattarlo per carità. Ho detto, più dell'ordinario, perché le insopportabili gravezze, imposte con una cupidigia e con un'insensatezza del pari sterminate, la condotta abituale, anche in piena pace, delle truppe alloggiate nei paesi, condotta che i dolorosi documenti di quei tempi uguagliano a quella di un nemico invasore, altre cagioni che non in cui il luogo di mentovare, andavano già da qualche tempo operando lentamente quel tristo effetto in tutto il milanese. Le circostanze particolari di cui ora parliamo erano come una repentina esarcebazione d'un mal cronico. E quella qualunque raccolta non era ancora finita di riporre che le provisioni per l'esercito e lo supinio che sempre le accompagna ci fecero dentro un tal voto che la penuria si fece subito sentire, e con la penuria quel suo doloroso, ma salutevole come inevitabile effetto, il rincaro. Ma quando questo arriva a un certo segno, nasce sempre, o almeno è sempre nata finora, e se ancora, dopo tanti scritti di valentuomini pensate in quel tempo, nasce un'opinione nei molti che non ne sia cagione la scarsezza. Si dimentica di averla temuta, predetta. Si suppone tutta un tratto che ci sia grano abbastanza e che il male venga dal non vendersene abbastanza per il consumo, supposizioni che non stanno né in cielo né in terra, ma che lusingano a un tempo la collera e la speranza. Gli incettatori di grano, reali o immaginari, i possessori di terre che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai che ne compravano, tutti coloro insomma che ne avessero o poco o assai, o che avessero il nome da verne, a questi si dava la colpa della penuria e del rincaro. Questi erano il bersario dell'amento universale, l'abominio della moltitudine male e ben vestita. Si diceva di sicuro dove erano i magazzini, i granai, colmi, traboccanti, appuntellati, si indicavano il numero dei sacchi, spropositato. Si parlava con certezza dell'immensa quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi, nei quali probabilmente si gridava con altrettanta sicurezza e con fremito uguale che le granaglie di là venivano a Milano. Si imploravano da magistrati quei provvedimenti che alla moltitudine paion sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così giusti, così semplici, così atti a far saltar fuori il grano, nascosto, murato, sepolto, come dicevano, e a far ritornare l'abbondanza. I magistrati qualche cosa facevano, come di stabilire il prezzo massimo da alcune derrate, di intimar pene a chi ricusasse di vendere e altri ditti di quel genere. Siccome però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo né di far venire derrate fuori di stagione, e siccome questi inispecie non avevano certamente quella da tirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti, così il male durava e cresceva. La moltitudine attribuiva un tale effetto alla scarsezza e alla debolezza dei rimedi, e ne sollecitava ad alte grida dei più generosi e decisivi, e per sua sventura trovò l'uomo secondo il suo cuore. Nell'assenza del governatore Don Gonzalo Fernandez de Cordova, che comandava l'assedio di Casale nel Monferrato, faceva alle sue veci in Milano il gran cancelliere Antonio Ferrer, pure spagnolo. Costui vide, e chi non l'avrebbe veduto, che l'essere il pane a un prezzo giusto è per sé una cosa molto desiderabile, e pensò, e qui fu lo sbaglio, che un suo ordine potesse bastare a produrla. Fissò la meta, così chiamano qui la tariffa in materia di commestibili, fissò la meta del pane al prezzo che sarebbe stato il giusto se il grano si fosse comunemente venduto 33 lire il moggio, e si vendeva fino a 80. Fece come una donna stata giovine, che pensasse di ringiovanire, alterando la sua fede di battesimo. Ordini meno insensati e meno iniqui erano, più di una volta, per la resistenza delle cose stesse, rimasti ineseguiti. Ma l'esecuzione di questo vegliava la moltitudine che, vedendo finalmente convertito in legge il suo desiderio, non avrebbe sofferto che fosse per Celia. Accorse subito ai forni a chiedere pane al prezzo tassato, e lo chiese con quel fare di risolutezza, di minaccia, che danno la passione, la forza e la legge riunite insieme. Se i fornai strillassero, non lo domandate, intridere, dimenare, infornare, sfornare senza posa, perché il popolo, sentendo in confuso che l'era una cosa violenta, assediava i forni di continuo per godere quella cuccagna finché durava. Affacchinarsi, dico, e scalmanarsi più del solito, per riscapitarci, ognun vede che bel piacere dovesse essere. Ma da una parte i magistrati che intimavano pene, dall'altra il popolo che voleva essere servito, e punto punto che qualche fornaio indugiasse, pressava e brontolava con quel suo vocione, e minacciava una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo. Non c'era redenzione, bisognava rimenare, infornare, sfornare e vendere. Però, a farli continuare in quell'impresa, non bastava che fosse loro comandato, né che avessero molta paura, bisognava potere, e un po' più che la cosa fosse durata, non avrebbero più potuto. Facevano vedere i magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Protestavano di voler gettare la palla nel forno e andarsene, e intanto tiravano avanti come potevano, sperando, sperando che, una volta o l'altra, il gran cancelliere avrebbe inteso la ragione. Ma Antonio Ferrer, il quale era quel che ora si direbbe un uomo di carattere, rispondeva che Fornai si erano avvantaggiati molto e poi molto nel passato, che si avvanteggerebbero molto e poi molto con ritornare dell'abbondanza, che anche si vedrebbe, si penserebbe forse a dar loro qualche risarcimento, e che intanto tirassero ancora avanti. O fosse veramente persuaso lui di queste ragioni che allegava agli altri, o che, anche conoscendo dagli effetti l'impossibilità di mantenere quel suo editto, volesse lasciare agli altri l'odiosità di revocarlo, giacché, chi può ora entrare nel cervello d'Antonio Ferrer, il fatto sta che rimase fermo su ciò che aveva stabilito. Finalmente i Decurioni, un magistrato municipale composto di nobili, che durò fino al 96 del secolo scorso, informaron per lettere al governatore dello stato in cui erano le cose, trovasse lui qualche ripiego che le facesse andare. Don Gonzalo, ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende della guerra, fece ciò che il lettore si immagina certamente. Nominò una giunta, alla quale conferì l'autorità di stabilire al pane un prezzo che potesse correre, una cosa da poterci campare tanto una parte che l'altra. I deputati si radunarono, e come qui si diceva spagnolescamente, nel gergo segretariesco da allora, si giuntarono. E dopo mille riverenze, complimenti, preamboli, sospiri, sospensioni, proposizioni in aria, tergiversazioni, strascinati tutti verso una deliberazione da una necessità sentita da tutti, sapendo bene che giocavano una gran carta, ma convinti che non c'era da fare altro, conclusero di rincarare il pane. I fornai respirarono, ma il popolo in bestia lì. La sera avanti questo giorno, in cui Renzo arrivò in Milano, le strade e le piazze brulicavano d'uomini, che trasportati da una rabbia comune, predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in crocchi, senza essersi dati l'intesa, quasi senza vedersene, come gocciole sparse sullo stesso pendio. Ogni discorso accresceva la persuasione e la passione degli uditori, come di colui che l'aveva proferito. Tra tanti appassionati c'erano pure alcuni più di sangue freddo, i quali stavano osservando con molto piacere che l'acqua s'andava intorbidando, e si ingegnavano ad intorbidarla di più, con quei ragionamenti e con quelle storie che i furbi sanno comporre e che gli animi alterati sanno credere. Essi proponevano di non lasciarla posare, quell'acqua, senza farci un po' di pesca. Migliaia d'uomini andarono a letto col sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare, che qualche cosa si farebbe. Avanti giorno le strade erano di nuovo sparse di crocchi, fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, poveri, si radunavano a sorte. Qui era un bisbiglio confuso di mille voci, là uno predicava e gli altri applaudivano, questo faceva il più vicino alla stessa domanda che era allora stata fatta a lui, quest'altro ripeteva l'esclamazione che si era sentita risonare agli orecchi, per tutto lamenti, minacce, maraviglie, un piccolo numero di vocaboli era il materiale di tanti discorsi. Non mancava altro che un'occasione, una spinta, un avviamento qualunque per ridurre le parole ai fatti, e non tardò molto. Uscivano, sul far del giorno, dalle botteghe dei fornai, i garzoni che, con una gerla carica di pane, andavano a portarne alle solite case. Il primo comparire d'un di quei malcapitati ragazzi, dove era un crocchio di gente, fu come il cadere di un salterello acceso in una polveriera. «Ecco se c'è il pane!» gridarono cento voci insieme. «Sì, per i tiranni, che notano nell'abbondanza e vogliono far morire noi di fame!» dice uno. S'accosta il ragazzetto, avventa la mano all'orlo della gerla, dà una stratta e dice «lascia vedere!». Il ragazzetto diventa rosso, pallido, trema, vorrebbe dire «lasciatemi andare!» ma la parola gli muore in bocca, allenta le braccia e cerca di liberarle in fretta dalle cigne. «Giù quella gerla!» si grida intanto. Molte mani l'afferrano a un tempo, è in terra, si butta per aria al canovaccio che la copre. Una tepida fraganza si diffonde all'intorno. «Sian cristiani anche noi! Dobbiamo mangiare i pani anche noi!» dice il primo. Prende un pantondo, l'alza facendolo vedere alla folla, l'addenta, mani alla gerla, pani per aria, in men che non si dice, fu sparecchiato. Coloro a cui non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui e animati dalla facilità dell'impresa, si mossero a branchi in cerca d'altre gerle. Quante incontrate, tante svaleggiate! E non c'era neppur bisogno di dar l'assalto ai portatori, quelli che per loro disgrazia si trovavano in giro, vista la mala parata, posavano volontariamente il carico e via gambe. Con tutto ciò, coloro che rimanevano a denti secchi erano senza paragone in più. Anche i conquistatori non erano soddisfatti di prede così piccole e, mescolati poi con gli uni e con gli altri, c'erano coloro che avevano fatto disegno sopra un disordine più coi fiocchi. «Al forno! Al forno!» si grida. Nella strada chiamata alla corsia dei servi c'era, e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome, nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce e in milanese è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così salvatiche che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono. A quella parte s'avventò la gente. Quelli della bottega stavano interrogando il garzone, tornato scarico, il quale tutto sbigottito e abbaruffato, riferiva valbettando la sua trista avventura. Quando si sente un calpestio e un urlio insieme, cresce e s'avvicina, compariscono i forieri della masnada. Serra, serra, presto, presto, uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia, gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia a follarsi di fuori e a gridare pane, pane, aprite, aprite. Pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta dalla bardieri. Largo, largo figliuoli, a casa, a casa, fate luogo al capitano di giustizia, grida lui e gli alla bardieri. La gente, che non era ancora troppo fitta, fa un po' di luogo, di modo che quelli poterano arrivare e postarsi insieme, se non in ordine, davanti alla porta della bottega. Ma figliuoli, predicava di lì il capitano, che fate qui? A casa, a casa. Dov'è il timor di Dio? Che dirà il re nostro signore? Non vogliamo farmi male, ma andate a casa, da bravi. Che diamine volete far qui, così ammontati? Niente di bene, né per l'anima né per il corpo. A casa, a casa. Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, quando anche avessero voluto obbedire, dite un poco in che maniera avrebbero potuto, spinti come erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via via fino all'estremità della folla, che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli il respiro. Fateli dare indietro, che io possa riprendere fiato, diceva gli alla bardieri. Ma non fate male nessuno. Vediamo ad entrare in bottega. Picchiate. Fateli stare indietro. 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 Gridano gli alla bardieri, buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste dell'allabarde. Quelli urlano, si tirano indietro come possono. Danno con le schiene nei petti, con i gomiti nelle pance, col calcani sulle punte dei piedi a quelli che sono dietro a loro. Si fa un pigio, una calca, che quelli che si trovano in mezzo avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto un po' di voto si è fatto davanti alla porta. Il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano. Quelli di dentro vedono dalle finestre, scendono di corsa, aprono. Il capitano entra, chiama l'allabardieri che si ficano dentro anch'essi l'un dopo l'altro, gli ultimi rattenendo la folla con l'allabarde. Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio, si riappuntella. Il capitano a sale di corsa e si affaccia a una finestra. Uh, che formicolaio! Figliuoli, grida. Molti si voltano in su. Figliuoli, andate a casa, perdono generale a chi torna subito a casa. Pane, pane, aprite, aprite! Erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta. Giudizio, figliuoli, badate bene, siete ancora a tempo. Via, andate e tornate a casa. Pane ne avrete, ma non è questa la maniera. Eeeh, che fate laggiù? Eeeh, a quella porta, oibò, oibò. Vedo, vedo. Giudizio, badate bene, è un delitto grosso. Ora vengo io. Eeeh, smettete con quei ferri, giù quelle mani. Vergogna, voi altri milanesi che per la bontà siete nominati in tutto il mondo. sentite, sentite, siete sempre stati buoni figli. Ah, canaglia! Questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che, uscita dalle mani di uno di quei buoni figliuoli, venne a batterne la fronte del capitano, sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. Canaglia, canaglia! Continuava a gridare, chiudendo presto presto la finestra e ritirandosi. Ma quantunque avesse gridato quanto non aveva in canna, le sue parole, buone e cattive, si erano tutte dileguate e disfatte a mezz'aria nella tempesta delle grida che venivano di giù. Quello poi che diceva di vedere era un gran lavorare di pietre, di ferri, i primi che coloro avevano potuto procacciarsi per la strada, che si faceva alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere l'inferiate, e già l'opera era molto avanzata. Intanto padroni e garzoni della bottega, che erano alle finestre dei piani di sopra, con una munizione di pietre, avranno probabilmente disselciato un cortile, urlavano e facevano versacce a quelli di giù perché smettessero, facevano vedere le pietre, accennavano di volerle buttare. Visto che era tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Neppure una ne cadeva in fallo, già che la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. Ah, birboni! Ah, furfantoni! E questo è il pane che date la povera gente? Ahi! Ahimè! Ora! Ora! surlava di giù. Più d'uno fu conciato male. Due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata, li inferiate svelte, e il torrente penetrò per tutti i barchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci. Altri, uscendo per gli abbaini, andavano sui pettetti, come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori disegni di vendette sanguinose. Si slanciano ai cassoni. Il pane è messo a ruba. Qualche d'uno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate, intasca ed esce carico di quattrini per tornare poi a rubar pane, se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini. Metto in mano i sacchi, li strascicano, li rovesciano. Chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e per ridurla un carico da potersi portare butta via una parte della farina. chi, gridando, aspetta, aspetta, si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello, per ricevere quella grazia di Dio. Uno corre a una madia e prende un pezzo di pasta che s'allunga e gli scappa da ogni parte. Un altro, chi ha conquistato un burattello, lo porta per aria. Chi va, chi viene, uomini, donne, fanciulle, spinte, rispinte, urli, è un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori una calca composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda, di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. Mentre quel forno veniva così messo sotto sopra, nessun altro della città era quieto e senza pericolo. Ma nessuno la gente accorse in numero tale da poter intraprendere tutto. In alcuni i padroni avevano raccolto degli ausiliari e stavano sulle difese. Altrove, trovandosi in pochi, venivano in certo modo a patti, distribuivano pane a quelli che si erano incominciati a affollare davanti alle botteghe, con questo che se ne andassero. E quelli se ne andavano, non tanto perché fossero soddisfatti, quanto perché gli elabardieri e la sbirraglia, standola larga da quel tremendo forno delle grucce, si faceva però notare altrove, in forza bastante a tenere nel rispetto i tristi che non fossero una folla. Così il trambusto andava sempre crescendo a quel primo disgraziato forno, perché tutti coloro che gli pizzicavano le mani di fare qualche bella impresa correvano là, dove gli amici erano i più forti e l'impunità sicura. A questo punto erano le cose, quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e si avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla, e andando guardava e stava in orecchi per ricavar da quel ronzio confuso di discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco, ondipresso, le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece. Ora è scoperta, gridava uno, l'impostura infame di quei birboni che dicevano che non c'era né pane, né farina, né grano. Ora si vede la cosa chiara e lampante, e non ce la potranno più dare di intendere. Viva l'abbondanza! Vi dico io che tutto questo non serve a nulla, diceva un altro. È un buco nell'acqua, anzi sarà peggio se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a buon mercato, ma ci metteranno il veleno per far morire la povera gente, come mosche. Già lo dicono che siano troppi, l'hanno detto nella giunta, e lo so di certo per averlo sentito di rio, con questi orecchi da una mia comare che è amica di un parente di uno sguattere o di uno di quei signori. Parole da non ripetersi diceva, con la schiuma alla bocca, un altro che teneva con una mano un cencio di fazzoletto sui capelli arruffati e insanguinati, e qualche vicino, come per consolarlo, gli faceva eco. Largo, largo, signori, in cortesia, lasci in passare un povero padre di famiglia che porta da mangiare a cinque figliuoli. Così diceva uno che veniva barcollando sotto un gran sacco di farina e ognuno si ingegnava di ritirarsi per fargli largo. Io, diceva un altro, quasi sottovoce a un suo compagno, io me la batto. Sono uomo di mondo e so come vanno queste cose. Questi merlotti che fanno ora tanto fracasso, domani o domani l'altro, se ne staranno in casa tutti pieni di paura. Ho già visto certi visi, certi gallantuomini che girano, facendo l'indiano e notano chi c'è e chi non c'è. Quando poi tutto è finito, si raccolgono i conti e a chi tocca, tocca. Quello che protegge i fornai, gridava una voce sonora che atterò l'attenzione di Renzo, è il vicario di provvisione. Sono tutti birboni, diceva un vicino. Sì, ma il capo è lui, replicava il primo. Il vicario di provvisione, eletto ogni anno dal governatore tra sei nobili proposti dal Consiglio dei Decurioni, era il presidente di questo e del Tribunale di provvisione, il quale, composto di dodici, anche questi nobili, aveva, con altre attribuzioni, quella principalmente della nona, che occupava un tal posto doveva necessariamente, in tempi di fame e di ignoranza, esser detto l'autore dei mali, meno che non avesse fatto ciò che fece Ferrer, cosa che non era nelle sue facoltà, se anche fosse stata nelle sue idee. «Celerati!» esclamava un altro. «Si può far di peggio. Sono arrivati a dire che il gran cancelliere è un vecchio rimbambito, per levargli il credito e comandar lor soli. Bisognerebbe fare una gran stia e metterli dentro, a vivere di vece e di l'olio, come volevano trattar noi.» «Pane, eh?» diceva uno che cercava di andare in fretta. «Sassate di libra! Pietre di questa fatta, che veniva giù come la grandine! E che schiacciata di costole! Non vedo l'ora di essere a casa mia!» Tra questi discorsi, dai quali non saprei dire se fosse più informato o sballordito, e tra gli urtoni, arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, di modo che poteva contemplare il brutto e recente soccuadro. Le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccate alla porta. «Questa poi non è una bella cosa!» disse Renzo tra sé. «Se concian così tutti i forni, dove voglion fare il pane? Ne pozzi?» Ogni tanto usciva dalla bottega qualche d'uno che portava un pezzo di cassone, o di madia, o di frullone, la stanga di una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa insomma di quel povero forno, e gridando «Largo, largo!» passava tra la gente. Tutti questi si incamminavano dalla stessa parte e a un luogo convenuto si vedeva. «Cos'è quest'altra storia?» pensò di nuovo Renzo, e andò dietro a uno che, fatto un fascio d'asse spezzate e di schegge, se lo mise in spalla, avviandosi come gli altri per la strada che costeggia il fianco settentrionale del Duomo, e ha preso nomi dagli scalini che c'erano, e da poco in qua non ci sono più. La voglia di osservare gli avvenimenti non poteva fare che il montanaro, quando li si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse a guardare in su con la bocca aperta. Studiò poi il passo per raggiungere colui che aveva preso come perguida. Volto al canto, diede un'occhiata anche alla facciata del Duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento, e sempre dietro colui che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più fitta quanto più si andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo, e gli fendeva l'onda del popolo, e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla. Lì c'era uno spazio vuoto, e in mezzo un mucchio di braccia, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di piedi, un frastono di mille grida di trionfo e di imprecazione. L'uomo del fascio lo buttò su quel mucchio, un altro, con un mozzicone di palla mezzo bruciacchiato, sbraccia il fuoco. Il fumo cresce e si addensa, la fiamma si ridesta, con essa le grida sorgon più forti. Viva l'abbondanza! Muoiano gli affamatori! Muoia la calestia! Crepi la provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane! Veramente, la distruzione dei frulloni e delle madie, la devastazione dei forni e lo scompiglio dei fornai non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane, ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche che una moltitudine non ci arriva. Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima, finché è nuovo nella questione. E solo forza di parlarne e di sentirne parlare diventerà inabile anche a intenderle. A Renzo, infatti, quel pensiero gli era venuto, come abbiamo visto da principio, e li tornava ogni momento. Lo tenne peraltro in sé, perché di tanti visi non ce n'era uno che sembrasse dire, fratello, se fallo, correggimi che l'avrò caro. Già era di nuovo finita la fiamma. Non si vedeva più venire nessuno con altra materia e la gente cominciava ad annoiarsi. Quando si sparse la voce che al Cordusio, una piazzetta o un crocicchio non molto distante di lì, si era messo la sede o un forno. Spesso, in simili circostanze, l'annunzio di una cosa la fa essere. Insieme con quella voce, si diffuse nella moltitudine una voglia di correre là. Io vo, tu vai? Vengo, andiamo! Si sentiva per tutto. La calca si rompe e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non muovendosi quasi, se non quanto era strascinato dal torrente, e teneva intanto consiglio in cuor suo se dovesse uscire dal baccano e ritornare al convento in cerca del padre Buonaventura o andare a vedere anche quest'altra. Prevalse di nuovo la curiosità. Però risolvette di non cacciarsi nel fito della mischia, a farsi ammaccare l'ossa o a risicare qualcosa di peggio, ma di tenersi in qualche distanza, a osservare. E trovandosi già un poco a largo, si lavò di tasca il secondo pane e attaccandoci un morso, saviò alla coda dell'esercito tumultuoso. Questo, dalla piazza, era già entrato nella strada corta e stretta di pescheria vecchia, e di là, per quell'arco a sbieco, nella piazza dei mercanti. E lì erano ben pochi quelli che, nel passar davanti alla nicchia che taglia il mezzo della loggia dell'edificio, chiamato allora il collegio dei dottori, non dessero un'occhiatina alla grande statua che vi campeggiava, a quel viso serio, burbero, accipigliato, e non dico abbastanza, di Don Filippo II, che, anche dal marmo, imponeva un non so che di rispetto, e con quel braccio teso pareva che fosse lì per dire, ora vengo io, marmaglia. Quella statua non c'è più, per un caso singolare. Circa 170 anni dopo quello che stiamo raccontando, un giorno le fu cambiata la testa, le fu levato di mano lo scettro e sostituito a questo un pugnale, e alla statua fu messo nome Marco Bruto. Così accomodata state forse un par d'anni, ma una mattina certuni che non avevano simpatia con Marco Bruto, anzi dovevano avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla statua, la tiraron giù, le fecero cento angherie, e mutilata e ridotta a un torso in forme, la strascicarono con gli occhi in fuori e con le lingue fuori per le strade, e quando furono stracchi bene, la ruzzolarono non so dove. Chi l'avesse detto a Andrea Biffi quando la scolpiva? Dalla piazza dei mercanti, la marmaglia insaccò per quell'altro arco, nella via dei Fustagnai, e di lì si sparpagliò nel Cordusio. Ognuno, al primo a sboccarvi, guardava subito verso il forno che era stato indicato, ma invece della moltitudine d'amici che si aspettavano di trovare lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene, come esitando, a qualche distanza della bottega, la quale era chiusa, e alle finestre gente armata, in atto di star pronti a difendersi. A quella vista, chi si maravigliava, chi sagrava, chi rideva, chi si voltava per informare quelli che arrivavano via via, chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva avanti, avanti. C'era un incalzare e un rattenere, come un ristagno, una titubazione, un ronzio confuso di contrasti e di consulte. In questa, scoppiò di mezzo alla folla una maledetta voce. C'è qui vicino la casa del vicario di provvisione, andiamo a far giustizia e a dare il sacco. Parve il rammentarsi comune di un concerto preso, piuttosto che l'accettazione di una proposta. Dal vicario! Dal vicario! È il solo grido che si possa sentire. La turba si muove, tutta insieme, verso la strada dove era la casa, nominata in un così cattivo punto.